Tecnologia edilizia oggi è un proseguimento di una realtà che io e mio fratello abbiamo formato nel lontano 1988. Nel 2005 è nata il proseguo con mio figlio Giuseppe e mia nipote emiliana. Oggi lavoriamo molto nel recupero del centro storico edifici che sono nati negli anni 60-70 con le nuove tecnologie, rinforzio strutturale, con fibri di carbonio, con malte a base di NHL, prodotti ad alto valore aggiunto. Con il PNRR abbiamo delle ottime prospettive perché a parte che ci siamo specializzati con nuove tecnologie, collaboriamo con imprese, a cui diamo servizi e forniture di prodotti tecnologici e quindi hanno preso già delle commesse e quindi siamo in attesa che iniziamo questa nuova avventura con il PNRR. Noi abbiamo iniziato a lavorare con i talcementi agli inizi degli anni 90. L'anno scorso c'è stata la sformazione dei talcementi a Heidenberg Materials e quindi ci sono un po' di nuovi prodotti che ci consentono di avere più marginalità e quindi è un crescendo sempre di più negli anni. Il prodotto più richiesto da noi è il cemento 325, la calceidraulica Calix NHL. Il servizio che apprezzo di più è la velocità, la rapidità che c'è dall'ordine alla consegna della materia.